Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di tre cose che avrei voluto sapere quando ho iniziato questo video, è tipo super super mainstream, però credo che sia veramente utile perché ti fa capire molto di quelli che sono gli errori e le cose che potreste evitare adesso, che magari state facendo, in virtù di una carriera più longeva, più veloce anche. Ok, quindi il primo che veramente tornassi indietro, mi prenderei a ceffoni, è il fatto di cercare esercizi particolari, nel senso che voi sapete che io sono super, poi se mi seguite le cose, se mi seguite dal tempo, io sono super super interessato a quella che è la biomeccanica del movimento, quindi ricercare la finezza in più. Il problema è che molto spesso quando si entra in questo campo di biomeccanica, quello che si perde è la praticità, nel senso che vai a trovare un esercizio che effettivamente risponde, corrisponde a tantissime cose che senti bene, che riesci a percepire, eccetera, ma la praticità si perde. O perché perdi una vita a montarti, settarti questo e quest'altro, che non è una cosa scontata, ma una cosa che effettivamente ti fa perdere pump, stamina, eccetera, quindi non sei in grado poi di esercitare una buona performance, ma soprattutto molto spesso quello che si perde è la capacità di veicolare effort e intensità nella serie. Voi immaginate ogni serie che dovete avere, dovete immaginarvi come se foste in dei binari, ok, cioè ben saldi, non potete deragliare, quindi a quel punto l'unica cosa che dovete fare è, boom, premere accelerare, siete precisi, la forma è impeccabile, siete come delle stampanti a macchinetta, ok, andate, 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 e dovete pensare soltanto a spingere, cioè una volta che avete quella confidenza di forma, di esecuzione, eccetera, dovete pensare a spingere. Esercizi che magari sono astrattamente perfetti, molto esotici, particolari, che sento bene il picco di tensione, questa è una cosa che confonde molto, le persone sentono un picco di tensione, perché normalmente c'è un forte sticking point in massimo accorciamento, quindi un picco di tensione in massimo accorciamento, e pensano che l'esercizio lavora. Fateci caso, fate un pulle unilaterale, oppure un pulle down con Tracy Bar, sentirete meglio il pulle unilaterale, ma non è un esercizio che stimola di più. Quindi, quello che dovete fare in realtà è trovare un esercizio in cui potete esprimere una buona intensità, attivandovi, agganciandovi al meglio col distretto target, ma la sensazione di squeeze non vuol dire agganciarsi bene al distretto target. Nella maggior parte dei casi, gli esercizi sono quelli, sono molto basic, poi potete andare a spaziare, a me piace molto spaziare su esercizi per le spalle, che non sono esotici, attenzione, sono esercizi che vengono utilizzati nel rehab, e che con un minimo di sovraccarico aiutano molto l'equilibrio di stabilizzazione della spalla. Per il dorso degli stretchers, e poi, logicamente, se si hanno palestra a disposizione con tanti macchinari, là si può sentire la differenza, ma anche semplicemente utilizzare degli elastici al punto giusto, già ti ha quell'appiattimento del profilo di resistenza, che se ti interessa un argomento, scrivilo qua sotto nei commenti, faccio un video, che permette di aggiungere quella spezia in più, quel sapore in più al proprio allenamento, che sicuramente è funzionale. Però ci sono esercizi super strani che io provavo, super particolari, che poi alla fine, veramente, avevo una logica, sentivo bene, ma non riuscivo a spremersi intensità, e poi non riuscivo a collocare bene all'interno del workout design, quindi il design del mio allenamento, la scelta degli esercizi, è fondamentale, deve seguire delle logiche, non posso schiaffare solo, ok, questi sono i tre migliori, quattro migliori, cinque migliori esercizi, per questo distritto che sento bene, li schiaffo là in un ordine, tra virgolette, casuale, o non troppo ragionato. Molto spesso avere un esercizio basic, o meglio, esercizi molto basic, ma distribuirli bene nella sessione, è quello che ci permette di avere il grosso dei risultati, rispetto ad avere esercizi super particolari, super esotici, eccetera, eccetera. Quindi questo è il primo errore. Ora, il secondo punto è che non ho mai dato troppa importanza al carico, carico inteso in maniera giusta. Ora, io non sono mai stato una persona che cittava troppo, ma in alcuni casi cittavo, ok, andavo a sporcare, però il carico è sempre stato messo troppo in secondo piano, perché l'idea era quella, facevo bodybuilding. Questo è stato giusto e sbagliato, nel senso che da una parte non devo essere carico centrico, perché quando si è centrati, centralizzati sul carico, si tende poi a sporcare da un punto di vista di esecuzione. È abbastanza inevitabile. Quando si fa il progressive overload, è inevitabile che si debba fare un momento di passo indietro, resettare i carichi e lavorare la forma, o stabilizzare i carichi e lavorare la forma. Per questo poi è molto utile filmarsi quando si fa progressive overload, perché dici, ah ok, sono riuscito a battermi, ho battuto il log, vediamo un attimo, ah, ma qua sono sceso un po' meno, questo e quest'altro. Quindi sicuramente questo c'è, però all'inizio avevo tolto proprio in seconda battuta il carico, mi concentravo soltanto sul violentare il più possibile il distretto muscolare, che è una cosa che da neofiti intermedi riesce molto bene, perché il carico di per sé è basso e non c'è quell'impatto onorale molto forte, quindi se devo fare una tecnica di intensità assurda sull'hack squat la faccio, la gestisco anche bene. Diverso è quando la devo fare con sette pizze sull'hack squat per parte, quello è molto più complesso, perché magari il mio 8RM prima era tre pizze per parte, e ok, la facevo, quando il mio 8RM per quella tecnica è sette pizze per parte, è molto più pesante, non riesco a completarla. Quindi all'inizio che cosa è mancato? Ok, mi vedo lento, mi diverto, eccetera, questo ha alzato molto la mia soglia di sopportazione al dolore, però realmente non sono riuscito a lavorare sul carico, a progredire sul carico, che è una cosa fondamentale, perché c'è stato un momento circa nel 2018, dove ho preso, ho iniziato a dire, ok, perfetto, devo lavorare sul carico, ho iniziato a avvicinarmi molto alla scuola inglese, 2018, cavolo, eh, sei anni fa, cinque anni fa, cinque, sei anni fa, e mi sono iniziato ad avvicinare alla scuola inglese, e là ho iniziato a progredire tanto i carichi, i carichi sono saliti in maniera allucinante, veramente allucinante, facendo un progressive overload. Una volta raggiunto un certo plateau sui carichi, sono saliti molto, sono tornato a fare lavori ipertrofici, e l'impatto è stato molto differente, nel senso che ho dovuto rivedere molte cose, certe schede non potrei più farle, perché è troppo impattante il carico che utilizzo per fare lo stesso schema, e al tempo stesso, però, già questo aumento di carichi mi ha portato a tanti, tanti miglioramenti, un ottimo beneficio. E adesso tutto quello che io vado a fare, che magari facevo prima su quello stile molto più denso, con dei carichi solidi, ha un impatto molto più importante. Banalmente, se io faccio un triplo drop set, il carico minimo che raggiungo è comunque un carico super stimolante, perché a livello di Newton, di forza esercitata, di tensione, di carico, è comunque in termini assoluti un carico importante, impegnativo, anche se per me è un carico basso, percentualmente, a livello relativo, ecco, a livello percentuale per me. Quindi, costruzione sui carichi, questo dovrebbe essere il mantra iniziale per tutti voi, quando partite, iniziate, lavorate tanto, tanto sui carichi, cercate di aumentarli. Come farlo? con un progressive overload molto semplice, abbiamo tantissime schede nel videocorso di bodybuilding su Rhino Nation, che possono essere scaricate, e c'è, quando parlo dei diversi approcci, dei diversi split, c'è il progressive overload. Adesso uscirà il videocorso di bodybuilding livello 2, dove parlerò di diversi metodi, parlerò anche del progressive overload, molto semplice, degli straight set, l'approccio è chasing the log, quindi mi devo battere il mio log, segno quante ripetizioni, quanto carico, e la volta dopo mi devo battere. E ogni volta continuo così, e soprattutto quando si è neofiti intermedi, questo ci può permettere di crescere veramente tantissimo, e costruire delle solide basi, per poi inserire dei lavori un po' più densi, un po' più particolari. L'ultimo punto che... ecco, me l'avevo perso. L'ultimo punto è invece il discorso della pazienza, da un punto di vista alimentare. Ossia, come all'inizio avviene, il mio approccio era, ok, sto in bulk, inizio a spingere tantissimo, e vedo il peso che sale, se il peso non sta salendo, spingo ancora di più, finché il peso sale, 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 e poi quando vado in stallo, non riesco più a mangiare, e diventa una sofferenza stare in bulk, e mi vedo grasso, perché sono ingrassato molto, allora inizio a scendere. E quando inizio a scendere, scendo, scendo, scendo. E se il peso non scende, continuo a scendere di calorie. Aggiungo il cardio, faccio. Cioè, è il tentativo di non avere la pazienza, il discorso di non avere la pazienza, è cercare di forzare, aspettandosi che da ogni cosa che cambio io, c'è subito, automaticamente, una risposta nel nostro corpo. In realtà questo non avviene. Il nostro corpo è un fan dell'omeostasi, come prima cosa, quindi vuole mantenere il più possibile lo status quo. Questo è il motivo per cui applica degli adattamenti enzimatici, ormonali, molto repentini, quando facciamo qualsiasi cosa. E quindi si adatta. Se stiamo in un deficit minimo, a un certo punto stagliamo. È normale. Se stiamo in un surplus, adesso inizio a mangiare una mela in più al giorno, non è che ingrasso all'infinito. E questa viene definita l'adaptive thermogenesis, ossia la termogenesi adattativa. Ora, il concetto è che, nonostante ci sia questa adaptive thermogenesis, non è che la discesa o la salita sono dei tasselli, sono dei percorsi lineari. Cioè, scendo, è come se facessi una salita perfettamente limata, precisa. Salgo, salgo un gradino. Cioè, ogni giorno ho quei due o tre atti in più e continuo a salire fino alla fine dell'off season. Non è così che avviene. Innanzitutto, in off season, l'alimentazione deve essere funzionale a quello che faccio in sala. Quindi, si smette di ragionare sul quanto devo mangiare di per sé per aumentare di peso, come comportarmi per il peso, eccetera. No. Io devo ragionare su quello che faccio in sala, su come progredire, quelle che sono le abilità che mi permettono di costruire massa muscolare, e l'alimentazione deve essere funzionale al mio allenamento. Perché se l'alimentazione mi permette di progredire come devo, allora costruisco le masse che devo, che sono poche. Quindi non le posso vedere giorno per giorno sulla bilancia. Normalmente, in realtà, si vedono perché magari arrivo al fine dell'off season un filo più pesante, oppure perché quando faccio un cut, oppure perché arrivo allo stesso peso e sono più tirato, e quando faccio un cut, paragonando le due top conditions, o allo stesso peso e sono più tirato, oppure sono tirato uguale, ma peso un po' di più. Quindi si vede da top condition o top condition. Questo è sempre un consiglio. Paragonate sempre le top condition. Non paragonate come stata data in bulk l'anno scorso o in bulk adesso. È un po' forviante. Ora, in cut, bene o male, è un po' un discorso analogo. In cut dovete immaginare la discesa come se fosse scendere delle scale. Quindi ho un periodo di stallo che può durare anche tanto e poi scendo di botto. Stallo e scendo di botto. Quindi ho atleti che scendono anche diversi chili al giorno. A un certo punto di botto, cioè magari due chili al giorno, poi un chilo, poi un chilo, poi un chilo, così di botto. Magari hanno stallato, non dico per dire, ma anche 6-8 settimane. Là bisogna avere l'abilità di cercare di vedere esattamente che cosa sta succedendo, avere i feedback esterni dell'atleta, vedere la situazione e capire quello che sta succedendo sotto il telaio. Ok? Cercare di capire cosa sta succedendo a livello metabolico. Molto spesso c'è questo washing effect, quindi la diposcita quando si svuota del trigliceride e si riempie d'acqua, questa è un'ipotesi, che è il motivo per cui a un certo punto c'è un calo di peso, di acqua, perché la diposcita inizia a svuotarsi anche dell'acqua, quindi lì per lì sembra che non sto dimagrendo, ma in realtà sto dimagrendo, effettivamente c'è una lipolisi e un utilizzo di acidi grassi, sto perdendo grassi a tutti gli effetti. E molto spesso quello che bisogna fare è pazientare, quindi stare in quel deficit con quel cardio seguendo quell'alimentazione, tanto so che sto in deficit, non è possibile che la termogenesi adattativa sia scesa così tanto, io sto dimagrendo e devo lasciare tempo al corpo, anche perché sono stanco, sento il deficit, rimani così, perché se scendi troppo rischi di andare in burnout a livello di SNS, se rimani così aspetta semplicemente che il corpo si adatti, che vada a crollare tutto quanto e poi dalla valuta e magari inizia a fare degli altri passetti, però se il corpo è restio e ti sta frenando in qualche modo non forzare in basso perché non è il momento per farlo, quindi bisogna avere pazienza e lasciare che il corpo faccia il suo, c'è sempre la tendenza di voler vedere qualche cambiamento e questo avviene anche per i ragazzi che magari vengono allenati dai propri preparatori che chiedono un cambio di scheda sempre o chiedono un aumento di peso, di calorie, questo e quest'altro, quando molto spesso fare le cose in maniera lineare come compitini è quello che porta il grosso del risultato, il bodybuilding sono piccoli mattoncini, il grosso che facciamo sono piccoli mattoncini che mettiamo ogni giorno gradualmente e alla fine costruiamo il palazzo, non è fatto di grandi mattoni che vengono messi due, tre e il palazzo è costruito, quindi questa è un'altra cosa molto importante, all'inizio spingevo più, adesso mi sono anche reso conto che ok, faccio il mio allenamento, continuo quello, continuo a rosicchiare qualche piccolo miglioramento di performance e a livello alimentare mi metto là, poi dopo un po' di settimane quando sento che ho bisogno di un po' più di cibo aumento ma poco tranquillamente ovviamente a fino a season arrivo a mangiare tanto però non è un qualcosa che faccio spingere il peso quasi più neanche lo vedo questo io perché ormai ho confidenza con il mio corpo e riesco a ipotizzare quanto sto pesando ma più che altro quanto sto migliorando a livello di tessuto magro ovviamente voi il peso monitoratelo perché dovete imparare a sviluppare questo tipo di intimità con voi ragazzi spero che questo video sia stato utile qualsiasi commento qua sotto in descrizione sarò super lieto di rispondervi e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo